L'associazione Blender Italia è nata qualche mese fa, è nata a maggio del 2017 ed è nata per dare corpo a quella che è l'organizzazione che è nata con Blender Italia, con il sito Blender.it al quale voi siete quasi tutti registrati. Anzitutto ci tengo chiaramente a dire, a dirci anche per ragioni di trasmissioni della conferenza su YouTube per spiegare cos'è rapidamente Blender. Blender è un software potente, affidabile, supportato soprattutto, una grande community che gestisce questo software e lo rende sempre più potente e a disposizione di tutti. Utilizzato da professionisti, da artisti appassionati e open source. Quindi questo è molto importante perché è una filosofia che permette a tutti di poter accedere a questo tipo di software. Per maggiori informazioni Blender Italia è il sito di riferimento sul software Blender e Blender.org è il sito madre della gestione del software stesso. Blender è utilizzato, come ben sappiamo, in quali campi? Nel media entertainment, nel cinema, pubblicità, nel game, nella progettazione, nel design, nella medicina, nella stampa 3D, fumetti, simulazione, architettura, realtà virtuale, realtà aumentata e così via. Blender Italia, lo sappiamo benissimo, è un software incredibile che ci dà una versatilità nel mondo del lavoro o semplicemente nel mondo artistico davvero impressionante. Io ho iniziato con Blender nel 2014. Grazie a una serie di dinamiche sono riuscito a diventare il quarto gestore di Blender Italia che si è susseguito nei vari 16 anni della vita di Blender.it e una volta che ho imparato e conosciuto Blender mi sono appassionato come tutti quanti voi del resto e ho cominciato a metabolizzare quello che poteva essere un sistema di crescita per Blender in Italia, quindi per gli artisti e i professionisti. Molti di voi sono associati, sono presenti qui oggi, che hanno aderito a questa chiamata di associazione che deve necessariamente portarci ad una crescita. L'associazione è una cosa importante per come la vedo io, per come la vedono gli associati. Questo è un messaggio chiaramente a chi non è associato. L'associazione permette di crescere, di dare sostanza a questa comunità, questa community di italiani che utilizzano il software. Quindi ci tengo a sottolineare che da maggio ad oggi stiamo avendo una crescita abbastanza alta e che questo deve necessariamente continuare. Attualmente siamo 61 associati da gennaio ad oggi. L'associazione permette di creare dei presupposti per gli associati e per i professionisti associati. Si è innescato tutto un sistema di crescita per il professionista all'interno dell'associazione e che questo migliora piano piano nel tempo. I risultati, chi è associato li sta cominciando a vedere, i primi risultati si cominciano a vedere anche sul sito, creando, modificando alcune cose. Molti chiaramente preferiscono, prediligono uno strumento sociale come quello di Facebook. Facebook in generale non ci dà la versatilità che abbiamo con il sito. Io lo dico sempre per chi mi conosce di più, per chi entra in contatto con me in senso generale, e lo dico sempre, il sito è uno strumento nostro, è uno strumento che possiamo modificare, possiamo attagliare e possiamo aggiungere e togliere tutto quello che desideriamo. All'interno chiaramente, io faccio un discorso non per il singolo, ma un discorso per la community. Per questo molto spesso alcuni di voi, per spezzare una lancia a mio favore, molti di voi mi vedono contrastare a volte, anche se contrastare è un termine inappropriato, mi vedono magari agire, interagire con il gruppo di Facebook, soprattutto in favore, quindi indirizzando l'utente sul sito. Solo perché il sito è uno strumento che ci permette di lavorare in maniera diversa, di attagliarlo e di modificarlo. Come potete vedere, una prerogativa del sito non c'è pubblicità. Quindi, questo perché tengo a sottolinearlo? Perché all'interno di Blender Italia non c'è lucro. Non c'è lucro da parte mia, da parte dello staff, proprio perché il messaggio deve essere chiaro. Cioè, la community è una community nata e che va avanti per gli associati, prima di tutto, per tutti gli aderenti alla community di Blender.it, in maniera disinteressata. Gli unici interessi sono quelli di crescita verso gli associati, verso gli appartenenti alla community. Quindi, l'Associazione Blender Italia, trovate tutti i riferimenti per l'Associazione, li trovate su associazione.blender.it. Grazie.